Rendere fruibile in tempi brevi l'ex Tribunale di Corso Europa, che è stato chiuso nel 2013 nel quadro della revisione nazionale delle circoscrizioni giudiziarie utilizzando i locali al piano terra dell'immobile, dove trasferire al più presto la sede giudiziaria del giudice di pace. Nei giorni scorsi è stato approvato in giunto un atto di indirizzo con il quale è stato deciso di esperire le procedure di recesso di locazione del locale debiti a sede del giudice di pace di Via Veneto dopo 16 anni di permanenza. L'utilizzo dell'ex Tribunale negli ultimi due anni è stato fortemente condizionato da numerosi problemi organizzativi. A lungo c'era anche parlato del trasferimento in blocco dei dipartimenti, l'ufficio tecnico del comune, poi sospeso per le infiltrazioni che avevano fortemente danneggiato alcuni ambienti della sede giudiziaria. Con l'amministrazione delle danno adesso il cambio di marcia e la decisione di allocare gli uffici e aule del giudice di pace, verosimilmente subito dopo l'estate, con essa anche gli uffici della sede decentrata dell'Inps. Dal comune di Giarre tuttavia fanno sapere che i locali dell'ex Tribunale di Corsa Europa sono comunque di pertinenza del Ministero della Giustizia. Alcuni precisi spazi dell'immobile infatti non potranno essere utilizzati in quanto dovranno prima ospitare l'archivio giudiziario dei Tribunali di Paternò e di Aciriale.